C'è gente che vorrebbe scendere il giocatore che ha bisogno di... però chiedono dei numeri assolutamente. E dopo alla fine tu dici questo, ma è giusto spendere una cosa in più per tentare, perché alla fine ognuno tenta di arrivare da qualche parte. Ma alla fine vedi che il Sassuolo prende via, spende due giocatori e dopo folle, e sta dimostrando, perché ha fatto 2-0 per Verona, non può dire, ma ha forse in calo. È chiaro che la persona che vuole dire, scorsa, scorsa, ma... Verona, cosa ha fatto? Verona ha perso oggi? No, mai. Ha perso a Pescara? Ah, gli scontri diretti a perso. È ciò. Pescara è una squadra che non è che ha speso tantissimo, però è una squadra che gioca bene, è una bella squadra, per cui ci sono varie possibilità. Che attacca, 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 perché 2-3 gol, 4, ogni partita.